ciao amici bentornati in un nuovo video questo video racchiude tutti i momenti più belli e salienti che abbiamo visto insieme durante le pull nel banner di alaitam ho combinato grandi cose ma anche voi a questo giorno avete combinate parecchie e qui di seguente avrete tutti i momenti più belli ad ogni modo per chi non mi conosce benvenuti nel mio canale io sono maui una content creator ufficiale di genshin impact e questo è il mio canale youtube dove posto di genshin e di tutti gli altri giochi che mi piacciono sono anche e principalmente una streamer sul sito viola ma mi trovate anche come cosplayer su instagram come tiktoker su tiktok sempre comunque materiale a tema videoludico e tutto il resto io vi lascio tutti comunque i link in infobox se vi fate seguirmi ovunque e passate in live che almeno lì potete vivere questi momenti in prima persona dal vivo in diretta detto questo vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video godetevi le pull e andiamo 5 stelle primo della multi pt75 ha vinto il si potrebbe essercene un altro è il primo della multi è il primo della multi potrebbe essercene un altro veramente ragazzi 9 possibilità che ci sia un altro è il massimo che si poteva desiderare prima della multi pt75 ha vinto il si è uscito prima del soft pt adesso c'è da incrociare le dita che ci sia un altro 5 stelle insieme comunque bello da morire non vedo l'ora sia domenica per riempirmi lo schermo di alaitam che miseria che meraviglia procediamo si riparte questo è pt75 ma noi ripartiamo pt1 yunjin c6 pt1 yunjin c6 ragazzi la multi è già la multi top questa abbiamo fatto anche yunjin c6 abbiamo fatto anche yunjin c6 ragazzi va bene procediamo pt1 pt2 pt3 pt4 l'abbiamo fatto davvero l'abbiamo fatto davvero l'abbiamo fatto davvero no ragazzi ho dei superpoteri veramente ho dei superpoteri veramente non ci fa l'abbiamo fatto davvero no ragazzi l'ho fatto veramente quindi andiamo a pt40 e vediamo se abbiamo un'altra bimba ravanello e magari una luce dorata si si allora calmi la prima è quattro stelle ma che allora aspetta tu la volevi che cing tu la volevi tu la volevi che cing si non ci credo a pt basso che cing si a pt31 in poche parole quindi per me va bene andiamo 5 stelle bene possiamo rendere la scommessa esce prima del soft pt no questa era la 75 quindi no ok abbiamo yunjin eccolo 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 qua 75 78 se non sbaglio pt78 oh 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 allora ah puoi cancellare no l'abbiamo l'abbiamo chiamata prima l'abbiamo chiamata prima l'abbiamo chiamata prima Esther ci ho detto io meglio della Skyward Pride ragazzi i miei poteri sovrannaturali ragazzi sono allucinanti non posso parlare io ho gli spiriti dell'aldilà con cui comunico mi ascoltano sempre purtroppo il collegamento non si stacca mai qui si va a pt30 di nuovo no vabbè Esther no no vabbè allora va alla salita pt21 dove pt21 mi hanno ascoltato bene gli spiriti a sto giro gli spiriti mi hanno ascoltato bene bravi spiriti mamma mia ci siamo potrebbe essere qualsiasi anche la priva ok è partito un lag scusate no ma che ok bambina pimpina esatto lei va benissimo questa cos'è 77 questa dovrebbe essere 77 grazie Davide grazie no no però 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 cosa era questo lag Genshin ok vedete che è già subito più uniti da qua ma guarda se ma guarda se è vero il raggio era nitidissimo ma questi sono trucchi di magia ma 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 il raggio era nitido all'attaccatura morta questa cosa ora tutte le pulle dei prossimi starò così incollata a guardare mi ci appiccica di faccia va bene sì faccio tele quando giochi a lol uguale farò te ok ora vediamo che esca presto 75 76 77 winsit 88 79 posso dire una cosa secondo me esce dall'80 in su perché sta succedendo sempre solo così con me sì anche perché la prossima è l'ottantesima quindi abbiamo già superato abbiamo superato sta roba eccolo 81 proprio sopra l'ottantesima avevi detto bravissima dai non ce l'avevo michlino grazie grazie volo però arma porca miseria ti mancava la spine sì non ce l'avevo una un'altra hai chiesto la liti che ti stanno buttando lancio su lancio 4 5 stelle lancio lancio ok credo che adesso saremo a piti credo sì sì siamo lì per favore eccoci l'arma sì 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 l'abbiamo trovata era pure uffiti vale tanto ti prego ho farmato tutto per te anche te bravo avrai tre corone dai dai la prossima 76 ok basta sti archi dai non hai ansia dov'è dov'è il marito la bimba bimba che ama marito aiuto ma ti giuro no 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 ragazzi no ragazzi no ragazzi no no non lo posso vedere ora 61 quindi esattamente sì è il momento è il momento sì sì ok dai ma il like è spoiler ma il like è spoiler ma scusami comunque comunque early comunque early rispetto al coso top 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 si va di là si va di là si va di là io mi riadrizzo no ragazzi ma la mia crash del liceo cioè vi giuro ne ho parlato ieri sera ma ieri sera l'ho menzionata la vita è veramente strana a me spugano lelle invece non c'è niente lei arriva che bello che bello sfortunatamente non posso l'ultimo tra l'altro l'ultimo zero bene si riparte belli casati a pt zero in futuro sì qui c'è 5 stelle è lei andiamo 10 eccoci ok eccoci per forza eh allora qualsiasi 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 lux qui non si sa ecco sì 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 gabri grazie per il pollo sì io la porto a 90 però tra qualche mese esatto che con calma non come Rudy Rudy è una pazza me l'aspettavo ok capì ok ci la prendiamo Cooksy grazie per il follow benvenuti in live ciao Miri buona serata no ecco questo non doveva succedere però il prossimo 8 stelle è garantito del bundle e magari a fine della multi intanto andiamo a prenderci ciò che è nostro dove sei dove sei marito dove sei dove sei eccolo che bello ecco la scarra è arrivato gg gg fotina bravo di rito screen foto quello che devi fare assolutamente vivendo bravo sono vivendo se sopravviviamo al bundle di Aletam la scarra oddio oddio no no sono l'ultima singola non me l'aspettavo proprio oh mio dio cos'è successo oh mio dio oh mio dio cos'è successo dove sei cosa sta succedendo che cosa ciao ciao cambia subito switcha metti dai buono vai buono c'è il shoutoo però è stato abbandonato no povero amore che sono fisi sui artefatti qui cioè ah sì è vero tu sei il super super izu player no ed è ed è ed è un 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 un